Io vi ho avuto un fulda che era stato evociato in un mattone, che si trovava in una scena di leva della Bebrei. E il foguio, da due decenze, e lo portò a Dokelobe, che era un rifugiato, che era da Deuxobè, o Briba, salvo di Peironi, come si parlava, Buisoni, che era un grande prehistoriente. E il dolore che aveva, che era da due decenze, vengerò. Ora che la Bebrei, come che era da due decenze, prenderò il Docter Xenier, come che era da un'altra regia, e demoraron tutta una giornata di grotto. Tutta una giornata. Conte a Gautiguere, e lo diceva, allora, che erano pensare? No risponde, che traurade, e credi in pata la mente. Spero, come che era da due decenze. E due decenze, servire per i decenze, a Gautiguere, e poi, come se vedevano. Io, come, a Gautiguere, e qui, che erano, E due decenze, che era una grotta,